ciao a tutti oggi voglio parlare del metodo vincente ciclometrico semplice molto valido e adesso andremo a vedere di cosa si tratta allora dobbiamo rintracciare innanzitutto su due ruote gli stessi ambi in posizione isotopa poi andremo a fare dei calcoli molto semplici andremo a sommare gli elementi uguali in verticale in questo caso Milano 50-32, Napoli 50-32 sommeremo 50 più 50 che fa 100-90, 10 poi faremo la stessa cosa dall'altra parte 32 più 32 è 64 poi cosa andremo a fare? andremo a fare delle somme diagonali che saranno 10 più 26 è 36 e 64 più 80 è 54 poi andremo a fare anche le sottrazioni diagonali degli stessi numeri e faremo 80-26 è 54 e 64-10 è 54 nello stesso numero e lo utilizzeremo come capogioco questo da abbinare ai numeri detti 54-36, 54-10, 54-64, 54-26, 54-80 questo lo giocheremo per 18 colpi su entrambe le ruote Milano e Napoli in questo caso ad esempio questo è un metodo molto semplice, molto bello vi dico però che non c'è certezza mai nei giochi dell'otto quindi non spendeteci tutti i risparmi sui giochi dell'otto andateci sempre molto cauti volevo dire una cosa, nei primi metodi commesso per 13 altri metodi che non appartengono alla ciclometria avevo detto che non mi piacevano il secondo colpo, il terzo colpo, il quarto colpo infatti è una cosa che non mi piace nei metodi che faccio io però nella ciclometria è giusto fare fino a 18 colpi perché il ciclo di un numero è di 18 estrazioni quindi volevo dire questa cosa perché sennò poi sembra che mi contraddico è una cosa che non mi piace e niente per adesso è tutto mi raccomando iscrivetevi al mio canale cliccate sul like guardate i miei dipinti se volete i miei quadri e tutto quello che faccio e niente ci sentiamo al prossimo video spero che vi sia piaciuto vi saluto per il momento e vi ringrazio ciao a tutti grazie